Giussi Buscemi, la famosa attrice italiana per eccellenza che troviamo in Che Dio Ci Aiuti, è stata ospite ieri, 8 aprile 2021, dei Soliti Gnoti, il gioco televisivo di Rai 1 condotto dal buon Amadeus. E pensate proprio che la bella, brava e simpatica Giussi non è mancata di dimostrare la sua grande educazione e il suo rispetto per gli altri, ma anche la sua grande, chiamiamola, modestia. Infatti arriva nel gioco ma non riesce a vincere, non riesce a indovinare proprio l'identità e gioca per la bellezza di ben 100.000 euro. Non indovina, ripeto, per sua sfortuna, però continua o meglio conquista tutti i fan del programma in questione, per la sua grande educazione, per il suo rispetto, ma soprattutto anche per un pizzico in più di modestia. Infatti ha fatto sapere ieri Giussi che da casa è più complicato, no? Sembrava, diciamo così, complicatissimo, ma in realtà, nella realtà dei fatti, non è poi così complicato, non è così difficile, va bene? Bene, complimenti alla bellissima e bravissima Giussi, questa attrice italiana di successo, che recita nella fiction televisiva chiamata, intitolata, che Dio Ci Aiuti. Grazie, iscrivetevi al canale di Naruto Italiano, commentate, ciao da Leandro, al prossimo video. Grazie. Grazie.